Benitesi, scudetto alle tocco ferro. Una chiara preferenza per lo scudetto, è quella di Rafa Benitesi, che non dimentica il suo passato al Napoli. L'allenatore spagnolo indica proprio gli azzurri per il tricolore, anche a discapito di un'altra ex. Ossia l'Inter. E poi chiede all'ambiente azzurro di non prendere la sua previsione come un modo per portare sfortuna. Benitesi, mi farebbe piacere il tricolore a Napoli. Benitesi conferma di simpatizzare ancora Napoli, mi farebbe piacere il tricolore in questa città e credo anche che sia una possibilità concreta. Che questo possa essere l'anno giusto per la formazione partenopea. Merito di allenatore. Presidente e giocatori, hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro. Poi Benitesi si ricorda che Napoli è anche la città dei cornetti, non vorrei che Spalletti e De Laurentiis possano pensare che questo mio pronostico porti sfortuna al Napoli. E l'ultima cosa che voglio è infatti sto toccando ferro. Virgola.